Nella tradizione popolare il 6 gennaio, il giorno dei Re Magi e della Befana, in quella cristiana, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre giungono alla capanna di Gesù Bambino seguendo la stella cometa e portano in dono oro, incesso e mirra. Il viaggio in cammello verso Betlemme è rievocato in alcune zone del nord Italia da un dolce che ne riprende la forma. A Varese, nel periodo natalizio, i pasticceri sfornano cammelli di pasta sfoglia. Il dolce può essere liscio, anche farcito con crema, cioccolato o panna. Il cammello classico della tradizione varegina è quello di pasta sfoglia e la pasta sfoglia non è niente l'altro che acqua, farina e sale, burro, lavorata e ripiegata su se stessa per varie volte e dopo viene data la forma del cammello, viene inzuccherato e poi infornato. Di origine pagana invece è la figura della vecchia con la scopa vestita di stracci che la notte dell'Epifania fa visita ai bambini per riempire le calze che questi hanno lasciato con caramelle, cioccolatini, mandarini e frutta secca se i piccoli sono stati bravi durante l'anno oppure con del carbone, altro tipico dolce con cui si chiudono le feste, preparato di zucchero colorato di nero e duro da masticare se ci si è comportati male.